Come stai? Ciao Maria, bene, bene, un po' stanco oggi Difficile le prove? Sì, non normale, solo che ho sonno, voglio dormire Tante coreografie poi? Sì, gli ultimi tre giorni ho imparato quadro coreografie nuove quindi per la testa tanta informazione Sei preoccupato o no? No, 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 preoccupato o no Poi in realtà tu a Viera avete vincente entrambi? Sì, infatti Sai che è la prima volta in 20 edizioni che succede una cosa del genere? Non era mai successa Davvero? Mai, mai E ti piace? Sì, ho trovato una bella cosa Perché poi è un po' come che vince la danza, no? Certo, certo Per me è una cosa giusta perché tutti e due ci stiamo sforzando e abbiamo messo tanto lavoro e niente, secondo me tutti e due ce lo meritiamo al di là di qualsiasi cosa